buongiorno a tutti sono fabrizio gifuni e fra poche ore partirò per venire nella vostra bella città di carpi perché domani lavorerò tutto il giorno in teatro per il premontaggio dello spettacolo con il vostro irridente silenzio che andrà in scena sabato sera nel teatro comunale di carpi sono molto felice di venire in questa città dove sono stato l'ultima volta nel febbraio del 2019 per l'apertura delle celebrazioni dedicate ai cento anni dalla nascita di primo levi in quell'occasione ero stato a a fossoli e a carpi e sono molto felice però di venire in questo teatro e particolarmente perché questo spettacolo questo studio sulle sulle lettere e sulle carte di Aldo Moro è uno spettacolo a cui sono molto legato e a cui ho dedicato gli ultimi anni del del mio lavoro le carte di Moro sono in sintesi tutto ciò che Aldo Moro scrisse nei 55 giorni della sua prigionia sono delle carte dimenticate su cui ho voluto riportare un po' di luce e credo che siano un materiale straordinariamente interessante dal punto di vista umano politico storico e e queste carte sono carte apparentemente lontane da noi e dal nostro tempo ma in realtà io credo e sono convinto che siano carte molto molto vicine purtroppo quello che che sta accadendo in Europa i fatti tragici che stanno accadendo in Europa da più di un mese ce le rendono ancora più vicine perché la vicenda di Moro è una vicenda tutta iscritta all'interno del cosiddetto periodo della guerra fredda che è un periodo che pensavamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle mentre nuove sciagure e nuovi orrori sono improvvisamente esplosi nel cuore dell'Europa io vi aspetto e spero che ci siate numerosi perché è una delle ultime repliche di questo spettacolo e una delle ultime repliche di questa tournée che mi ha regalato insieme al pubblico delle varie città delle grandissime emozioni quindi vi aspetto a presto ci vediamo sabato